Io credo che sia molto bello e importante questa uscita del Teatro Carlo Felice dalla sede principale di Genova nel territorio e la prima uscita è qui, in questa bellissima fortezza del Priamar di Savona, l'avevamo promesso che avremmo portato il Teatro Carlo Felice fuori per gli spettacoli estivi e allora siamo qua, in una delle opere più belle, già allestite a Genova e anche in Oman dall'Orchestra del Carlo Felice, dalla regia appunto del Carlo Felice arriva anche qui con un allestimento un po' diverso e credo che sia davvero un bellissimo segnale segnale ovviamente del pubblico che è affezionato a quest'area segna che esce e che quest'anno dopo questa tappa andrà a toccarne altre sei quindi altri sei comuni che potranno avere spettacoli diversi, tarati in base ovviamente alla capienza e all'esigenza dei singoli comuni ma credo davvero un bel segno e un bel inizio della regionalizzazione del Teatro Carlo Felice qui un bel esempio dell'unione, della collaborazione tra il Teatro Carlo Felice e l'opera giocosa che è un altro ovviamente ente che in questo caso lavorano insieme, che noi sosteniamo come Regione Liguria e che valorizziamo anche arricchendolo con la produzione appunto del teatro, della fondazione lirica per eccellenza Ligure che è appunto il Teatro Carlo Felice ricordo che la prossima tappa sarà all'Oano il 20 di luglio per un concerto che anche in questo caso è da non perdere e poi si andrà ovviamente negli altri comuni della Liguria Siamo felici e orgogliosi come città di Savona di ospitare sul Priamar la tredicesima edizione dell'opera giocosa un'edizione all'insegna della follia, come cita la brochure Oscar Wilde ricordava sempre che le follie sono le uniche cose che non si rimpiangono nella vita. Ecco ci vuole un pizzico di follia secondo me per fare questa scommessa una scommessa importante, portare la gente all'opera in estate, accostarla vicino a una fortezza così importante così particolare e un'altra follia, un'altra cosa meravigliosa a mio avviso è questa idea di far venire all'opera i giovani e questa formula nonna e nipote è una formula importante per i nostri giovani è necessario accostarsi alla musica e respirarla oltre che ascoltarla fin da piccoli quindi benvenga questa tredicesima edizione grazie all'opera giocosa, grazie a questa meravigliosa collaborazione e sinergia noi andiamo avanti veramente con orgoglio per poterla ospitare Beh, è il tredicesimo appuntamento, questo al Priamar, la stagione del Priamar estiva organizzata dal Teatro dell'Opera Giocosa di Savona, il teatro di tradizione unico in Liguria che in collaborazione con il Comune di Savona e la Regione Liguria organizza questa manifestazione estiva e qui al Priamar, come potete vedere, sta entrando la gente stasera rappresentiamo la Lucia di Lammerburg La Lucia mancava da Savona da vent'anni, abbiamo un cast veramente importante giovane, giovani bravissimi che alcuni debuttano, alcuni hanno già cantato in teatri come il Metropolitan, la Scala, l'Opera Festival e che sono qui a Savona ma poi non possiamo dimenticare che tutto questo viene con la collaborazione del Carlo Felice del Carlo Felice, ci fornisce le sue masse artistiche, l'orchestra e il coro del teatro che sono qui all'aperto a suonare la Lucia di Lammerburg che sono qui all'aperto a suonare la Lucia di Liguria 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 Grazie